Mi chiamo Jules E questa è la storia Di come sono morta Com'è possibile che sia qui raccontarvelo? Beh A questo ci arriveremo dopo Che cosa volete da me? Vogliamo solo proteggerti Fratello, così la spaventi E non è di noi che deve avere paura Sei scappata al tuo destino, Jules Dovevi morire in quell'incidente Le ombre ora ti stanno cercando Siamo stati confinati sulla terra Per 600 lunghi anni E ora finalmente ti abbiamo trovata Noi ti proteggeremo Ma tu dovrai aiutarci a tornare a casa Sei la nostra ultima speranza Quindi vostro padre è... Grazie a tutti Grazie a tutti